Ciao, sono Suora Manuela e ti do il benvenuto sul canale Faustino. Pubblichiamo video in lingua italiana relativi alle attività dell'Associazione Faustino, video catechesi di formazione base, video riguardanti iniziative degli Apostoli della Divina Misericordia presenti in Italia, video che presentano gli eventi che si realizzano nel Santuario della Divina Misericordia presente a Cracovia o a Ghevnici. Videoriflessioni contenenti preghiere e riflessioni tratte dalle Sacre Scritture e dal Diario di Santa Suor Faustina. Scoprirai la bellezza e il mistero del culto alla Divina Misericordia e ti immergerai nella spiritualità di Santa Suor Faustina. Dal 1996, l'Associazione degli Apostoli della Divina Misericordia Faustino, ispirata dal carisma di Santa Faustina, dalla sua spiritualità e dalle sue attività apostoliche, desidera servire il messaggio della Divina Misericordia e ha come principale attività la formazione individuale e comunitaria. Vedremo temi come la fiducia in Dio e quanto essa è la prima espressione dell'adorazione della Divina Misericordia, preghiere e riflessioni in preparazione alla festa della Divina Misericordia, alla festa liturgica del 5 ottobre in cui la Chiesa fa memoria di Santa Suor Faustina. Temi riguardanti la ricerca della perfezione cristiana, ovvero come perfezionare l'amore, seguendo la strada della fiducia in Dio e della Misericordia verso il prossimo. Come proclamare il mistero della Divina Misericordia? Come implorare la Misericordia di Dio per il mondo intero? Il fine di questo canale è quello di introdurti nella fascinante mondo dell'essere in comunione con Dio e prepararti a intraprendere la missione di Misericordia nel tuo ambiente. Ti aiuteremo a rilealizzare il tuo incontro con Gesù Misericordioso. Iscriviti a questo canale e sarai aggiornato sui nuovi video che pubblicheremo. Ovviamente ti invito anche a lasciarmi i commenti. Ti saluto e spero di averti nel canale di Faustino. Gesù, confido in te! Gesù, confido in te!